Il Foligno sbanca anche lo stadio Serenella Baglioni di Città della Pieve, i gol portano la firma di Francioni, 20 anni, e si portano in testa la classifica da soli con 20 punti. Andiamo a vedere le azioni salienti con le riprese di Leonardo Antonelli sotto una forte pioggia. Si riuscita la gara Pieve e Foligno. Il Foligno schiera 1-4-3-3 in avanti Peluso, Ginai e Francioni. La Pieve risponde con un 4-3-2-1. Dirige la gara signore Silvestri e Alessandro di Roma. Tenuta gialla per la Pieve e casacca azzurra per il Foligno. Il calcio d'inizio lo dà la Pieve che spinge da sinistra verso destra. Dal quarto minuto subito pericoloso il Foligno. Peluso sdefilato sulla sinistra fa partire un tiro close che colpisce il palo. Gara che stazione al centrocampo. Il non è campo pesantissimo. Al 34esimo in vantaggio il Foligno. Pettinella spizza per Ginai sul lato di destra. Mette al centro e dalla corrente il contro. Francioni che di destra mette dentro. Passano i minuti. Il Foligno controlla bene il vantaggio. Si arriva al 45esimo. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatori sulle punti vantaggio del Foligno per 1-0. Porta la firma di Francioni. Inizia la ripresa con gli stessi undici. Passano due minuti e il Foligno raddoppia. Vent'anni dal limite fa esplodere il suo sinistro che si insacca nel sette. Al quindicesimo Foligno Ginai in aria. Stoppa la sfera. Si gira, tira in porta. De Vincenzi rispinge. Arriva Pettinella che conclude fuori. Al trentesimo gran lavoro di Ginai. Entra in aria. Si presenta davanti a De Vincenzi. Invece di tirare, mette al centro. Mencarelli spazza in angolo. Al trentaquattresimo palla che filtra in aria. Ginai cerca l'impatto. Arriva in ritardo. Sfera che va in angolo. Al trentasettesimo calcio di rigore. La Piavese va giù Cacciamanno. Il direttore di gara indica il dischetto. Va la battuta. Cacciamanno. Rovani si oppone e fissa il risultato sul 2-0. Al trentesimo la Piavese accorcia le distanze. Sui sviluppi d'angolo salta più alto di tutti Mencarelli che di destra fulmina Rovani. Non c'è più tempo e arriva il trepice fisco che fissa il punteggio di Foligno 2-Piavese 1. Ragazzi, devo solo fare i complimenti perché hanno messo in tanti il cuore, la voglia. Comunque abbiamo messo anche organizzazioni. Fisicamente siamo stati bene in partita fino alla fine. Gli episodi oggi hanno fatto la differenza. Loro quello che gli abbiamo concesso l'hanno capitalizzato al massimo. Noi no. E viencono loro la partita. Ecco, Ministro. A 10 minuti della fine rigore. Lì forse la partita era un altro scenario. Sì, probabilmente il calcio di rigore era quell'episodio che l'avrebbe riaperta e poi magari al 94esimo l'avremmo potuta pareggiare. Però lo sappiamo, il calcio è questo e i rigori li sbaglia chi li calcia. Abbiamo incontrato una squadra che sotto l'aspetto della determinazione, dell'agonismo, della cattiveria non ha mollato niente e quindi ci ha reso la vita difficile. È anche vero che in vantaggio di due gol abbiamo avuto anche l'occasione per chiudere la partita. Poi se non la chiudi c'è sempre un episodio che può rimettere in gioco l'avversario e quindi poi diventa difficile. Però voglio fare i complimenti alla squadra avversaria perché veramente ho visto una squadra che ha buttato dentro al campo tutto quanto quello che aveva fino alla fine. Grazie a tutti.